Buongiorno a tutti e a tutte, continuiamo il nostro ciclo di audizioni, oggi abbiamo il piacere di riavere il Ministro Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, lo ringrazio per la disponibilità e ovviamente a nome di tutta la Commissione, siamo qui per lavorare a quello che sarà il nostro parere sul contratto di servizio, quindi abbiamo piacere e necessità di ascoltare le parole del Ministro, vi lascio immediatamente la parola anche perché alle 9, ahimè, molti di noi devono ritornare in Commissione. Grazie Ministro. Grazie Presidente e grazie anche agli onorevoli colleghi della Commissione di Vigilanza sulla RAI per questa ulteriore convocazione, doverosa convocazione, in quanto fornisce l'opportunità di illustrare le finalità che il nuovo contratto di servizio RAI intente perseguire per il 2023-2028. Il 27 aprile ci vedemmo infatti in una delle prime sedute della Commissione e vi rinnovo i ringraziamenti per quel primo scambio di vedute molto franco, aperto e costruttivo all'inizio della vostra attività, allora facemmo stato dell'impossibilità di entrare nel merito del contratto di servizio in quanto si era in attesa di un chiarimento sulla governanza azientale, ma ci impegniamo a approfondire ogni sforzo per arrivare entro il 30 giugno, come previsto dalle procedure alla finalizzazione dell'iter. Già il 26 giugno il Cominzegno dell'amministrazione RAI ha potuto esaminare la bozza di contratto di servizio inviato gli dal Ministero e successivamente deliberare. Abbiamo poi avuto cura di farvi pervenire il testo in esito a questo iter. Parinemente, in nome di una leale collaborazione interistituzionale, abbiamo espresso parere favorevole alla richiesta che la Presidente Florilia ci ha fatto pervenire di deferimento ai termini per la valutazione, proprio per i tempi molto ristrendi che il calendario ci ha posto e ovviamente per la pausa estiva. Si è trattato di una richiesta ragionevole. Il rinnovo del contratto di servizio tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la concessionaria pubblica è infatti una occasione centrale di presa d'atto delle molte innovazioni intercorse nel mercato dei media, conseguenti alle ibridazioni digitali e delle nuove esigenze e finalità di servizio cura e chiamata a dare riscontro. In particolare, rispetto al periodo 2018-2022, si sono affermate con maggiori forza nuovi soggetti del mercato audiovisivo, come le piattaforme Internet, che hanno introdotto modalità di fruizione dei contenuti inedite, moltiplicando la tipologia dei supporti, in una logica di superamento del classico form factor televisivo ed ampliando significativamente la platea dei potenziali destinatari. Dinamiche rese possibili dal progressivo di spiegarsi sul nostro territorio di infrastrutture di rete di nuova generazione, la cui realizzazione vede questa amministrazione in prima linea e che hanno reso possibile l'accessibilità diffusa a servizi digitali di nuova generazione e, parimenti, un riordino del sistema frequenziale televisivo nazionale, con la cosiddetta liberalizzazione della banda 700. Tali innovazioni di processo hanno prodotto importanti ricadute, sia in termini concorrenziali, sia in ambiti quale la fruizione sicura dei contenuti, il contrasto alla pirateria, la prominence. Dinamiche già avviate in occasione della stipula del precedente contratto di servizio 2018-2022 e di cui effetti sono ormai pienamente dispiegati. Viviamo ormai in piena transizione digitale ed è evidente come il contratto di servizio RAI non possa rimanere impermeabile a simili trasformazioni. Alla luce degli elementi precedentemente descritti, questa amministrazione ha avviato il processo di revisione e aggiornamento del contratto di servizio sulla base anche delle linee guida emanate dall'autorità per la garanzia nelle comunicazioni. Quali gli elementi di novità? Entrando nello specifico del documento oggetto dalle presenti audizioni, il primo elemento di significativi interesse che intendo sottolineare è l'articolo 3 del contratto di servizio, dedicato al processo di trasformazione della concessionaria da broadcaster a digital media company. Un processo di transizione che dovrà tradursi in un accesso facile e universale all'offerta del servizio pubblico, grazie ad un approccio multipiattaforma e che richiede la definizione da parte di RAI di una strategia di digitalizzazione in grado di valorizzare le professionalità, i modelli produttivi, la strategia distributiva, le attuali piattiforme esistenti e la definizione di quelle future. Un impegno strutturato di innovazione a 360 gradi necessario per rispondere alle esigenze del mercato, dei cittadini e delle nuove tecnologie. Il nuovo contratto di servizio, oltre a riprendere le finalità di un'informazione di qualità con approfondimenti dedicati, inchieste e dibattiti, come evidenziato nell'allegato numero 1 relativa all'offerta di servizio al pubblico, pone grande attenzione alle nuove generazioni, ai minori da tutelare e ai giovani che sono il nostro patrimonio. Un pubblico che la RAI deve coinvolgere, grazie alle possibilità di interazione offerte dalle nuove tecnologie, è per mezzo di una produzione di qualità, in grado di intercettare gusti e sensibilità dei più giovani degli under 35 e farsi interprete di una cultura della legalità a tutti i livelli e di una cultura di prevenzione nei confronti di fenomeni di violenza giovanile come il bullismo e il cyberullismo che non vanno mai sottovalutati. La concessionaria dovrà ricoprire un ruolo centrale anche sulla tematica del Made in Italy, inteso quale insieme valoriale e culturale del nostro Paese e delle sue eccellenze nel mondo. Non solo quindi produzione, ma cultura, identità, storia. Un impegno di divulgazione destinato non solo alle comunità di italiani all'estero e dagli oriundi, adeguato al cambiamento generazionale in atto in quelle comunità, ma finalizzato anche a restituire una rappresentazione del nostro Paese in grado di superare alcuni stereotipi e di valorizzare quelle tipicità, quelle eccellenze che sono alla base della specificità italiana grazie ad un'offerta opportunamente tradotta. Una veicolazione di informazioni di qualità in grado di sensibilizzare gli spettatori stranieri anche sulla importanza del Made in Italy propriamente inteso, in modo da supportare i prodotti tipici nazionali e contrastare la contraffazione e il cosiddetto Italian Sounding. Un tema su cui è stata data particolare attenzione in sede di aggiornamento del contratto di servizio è quello relativo allo sviluppo delle competenze per la transizione digitale e ambientale, tematiche centrali della nostra quotidianità, su cui si scommette il futuro della nazione. Su questo è necessaria un'azione di sensibilizzazione dei giovani e delle famiglie in merito alle opportunità che la digitalizzazione può offrire e dalle azioni che ognuno di noi può mettere in campo per contribuire alla tutela ambientale. Parimente è stata riservata grande attenzione anche all'inclusione sociale e culturale, con specifica attenzione alla qualità e alla quantità dei programmi che saranno oggetto di traduzione nel linguaggio dei segni, di sottotitulazioni e audidescrizioni in favore delle persone portatrici di disabilità anche sensoriali e cognitive. Inclusione, solidarietà, coesione sono patrimonio comune. I principali elementi di novità che ho precedentemente descritto si affiancano naturalmente ad ulteriori aree tematiche di intervento, come la qualità dell'informazione, la parità di genere, lo sport e la salute. Ci tengo inoltre a fare una precisazione su una polemica che è cresciuta sui media e sulle agenzie e a cui tengo a dare una risposta chiara e spero inequivocabile, quella relativa all'ampresunta mancanza di un riferimento al giornalismo d'inchiesta, all'interno del contratto di servizio. Innanzitutto, nella redazione del contratto, muovendoci secondo l'atto di indirizzo esplicitato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel giugno del 2022, quindi nella scorsa legislatura, abbiamo voluto porre in particolare attenzione alla semplificazione e quindi snellezza del contratto stesso, rimandando agli allegati alcune specifiche menzioni. Secondo, nell'offerta del contratto di servizio con voi condiviso, si fa riferimento al giornalismo d'inchiesta nel più ampio capitolo dedicato all'informazione come genere specifico, per dare particolare rilievo a tutte le modalità che riguardano la valorizzazione della qualità dell'informazione. Terzo, nell'allegato 1 al contratto di servizio, sia al punto 2, lettera A, che al punto 4, lettera B, si parla di inchieste. Quarto, infatti, proprio sulla base del contratto di servizio, la RAI, nei palinsesti presentati in Consiglio di Amministrazione, ha incrementato, come indicato, i programmi di giornalismo d'inchiesta per numero e per quantità di ore. A partire proprio dalla trasmissione report, che spostata alla domenica, ha una durata maggiore e una serialità più lunga rispetto alla scorsa edizione. Una seconda polemica riguarda l'inserimento del tema della genitorialità e della natalità. Duole constatare che si ragioni su questi temi secondo una logica di fazione e di derby quando dovrebbe esserci una grande alleanza di tutti i settori e corpi sociali per far uscire l'Italia da un inverno demografico ultra-trentennale, rispondendo ai numerosi appelli che lanciano personalità autorevoli. In prismissi, fatemi sottolineare che la priorità di diffondere i valori della famiglia e della genitorialità era già presente nel contratto di servizio 2018-2022. In secondo, fatemi partire con una citazione per parlare di natalità. Virgolette. La coesione sociale del Paese si misura sulla capacità di dare un futuro alle giovani generazioni, creando un clima di fiducia. La struttura demografica italiana manifesta uno squilibrio che deve richiamare l'attenzione. La nascita di un figlio è segnale di speranza e di continuità della comunità. Sono le parole del Presidente Sergio Mattarella. Innumerevoli possono essere gli allarmi lanciati da esperti del settore, in primis l'ex-presidente dell'Istat Giancarlo Blangiardo, docente di demografia dell'Università Bicocca di Milano. Per l'Italia, il 2022, lo scorso anno, ha segnato un nuovo record negativo di nascite, 392.000 contro circa 700.000 decessi. 392.000 nascite, 700.000 decessi. Un dato allarmante che esige soluzioni per invertire una tendenza in atto da troppo tempo. Serve, innanzitutto, mettere in campo tutte le iniziative teste a favorire la natalità dal punto di vista economico e sociale, a cominciare da efficace politica di conciliazione lavoro-famiglia. Serve, anche, uno sforzo culturale importante. È diffusa, infatti, oggi la tendenza a sottolineare gli aspetti negativi della natalità e della genitorialità, responsabilità, impegno gravoso, impossibilità di coltivare i propri interessi, peso economico, rinunce. Dobbiamo rappresentare i valori positivi della natalità e le emozioni che portano i bambini all'interno delle famiglie. È da lì che nasce anche la predisposizione a prendersi cura degli altri, con il passare degli anni, dei figli e degli anziani. È allora che anche la principale industria del Paese si impegni in questa proposta culturale. Ci sembra assolutamente coerente con la realtà dell'Italia del nostro secolo e con l'impegno per garantire il sistema sanitario, quello pensionistico, il welfare locale, con la continuità generazionale. Come si vede, uno spettro di intervento che restituisce la centralità della concessionaria pubblica nel panorama dell'informazione, della formazione e dell'intrattenimento, oltre che il ruolo nel comparto audiovisivo in termini di mercato. Una filiera, quella delle produzioni nazionali, su cui la RAI deve riscoprire e ricoprire un ruolo centrale, grazie ad investimenti in grado di premiare la qualità, l'innovazione nel rispetto della normativa vigente. Un'offerta di contenuti che sarà veicolata secondo un uso ottimale delle risorse frequenziali, grazie alla gestione di una rete nazionale per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale con frequenze in banda UHF, con copertura macro-regionale, per consentire la fruizione dei contenuti di informazioni in ambito locale, oltre ad altre due reti in ambito nazionale. Inoltre, la RAI dovrà impegnarsi a diffondere un proprio MUX nazionale standard DVB-T2 entro il 10 gennaio 2024 e a predisporre il passaggio dei restanti MUX standard VB-T2 secondo la roadmap predisposta dal Ministero in coerenza con la normativa di settore. La RAI in questo caso svolgerà un ruolo di acceleratore di innovazione, con indubbi effetti benefici su tutto il settore, a cominciare da quello delle TV locali, anch'esso patrimonio storico e culturale del nostro territorio. Gli obiettivi che ci siamo posti nel processo di aggiornamento del contratto di servizio sono stati quindi indirizzati non solo a recepire le inevitabili novità registrate dal settore negli ultimi cinque anni, quanto dare anche una nuova centralità della RAI nel sistema media audiovisivo nazionale e di cui i risultati saranno attentamente monitorati a livello istituzionale passo dopo passo dagli attori preposti a cominciare dal Ministero delle Imprese del Made in Italy per arrivare all'autorità di regolamentazione del settore, la G-Com. Un percorso quindi di trasformazione digitale che confidiamo sarà completato grazie alle capacità tecniche e professionali di cui l'azienda dispone. Spero colleghi di avervi illustrato nel dettaglio gli aspetti principali del contratto di servizio e resto a vostra disposizione qualora avesse domande da pormi oggi o anche in altra sede in altro momento in cui volete convocarmi. Ringraziamo il Ministro per la relazione ma anche per la disponibilità manifestata anche per altri momenti in cui potrà sicuramente tornare e sarà ben accetto in questa Commissione. E allora io ho già qualcuno prenotato, al solito abbiamo massimo 5 minuti per gruppo, cominciamo con l'Onorevole Candiani. Vedremo di fare buona sintesi in modo tale da stare entro l'orario, iniziamo alle 9. Grazie Presidente, grazie Ministro, abbiamo apprezzato la sua relazione e vorrei ricollegarmi anche a quello che lei ebbe a dire in questa stessa sede lo scorso 26 aprile con l'audizione e richiedere una sua riflessione su un tema che abbiamo già posto al Ministro Giorgetti negli scorsi giorni, quando abbiamo poi avuto un palese conferma dell'audizione dell'autorità anticorruzione che i due terzi della gestione del bilancio RAI sostanzialmente sono stati e sono fatti, sono stati fatti all'esterno del codice degli appalti. È chiaro che stiamo parlando di cifre molto importanti e anche qui sottolineare l'importanza di una gestione economica equilibrata e trasparente diventa fondamentale, una sua riflessione. Chiaramente il suo Ministero, Ministro, il territorio ha bisogno della televisione, c'è bisogno quindi di una sua riflessione e di una sua opinione in merito alla necessità di distribuire, di diffondere, di coprire col digitale terrestre anche laddove ci sono dei coni d'ombra che continuano ad essere persistenti. Aprirei una parentesi non solo per il digitale terrestre ma anche per le telecomunicazioni in generale. Questo è sempre un punto molto sensibile. È importante quindi, noi riteniamo che debba esserci un'azione forte sul potenziamento delle sedi locali, delle sedi territoriali e regionali, ma chiaramente occorre la copertura del digitale sul territorio. Quindi queste due riflessioni chiedo al Ministro una sua opinione e in funzione di questo ovviamente il contratto di servizio quale ruolo giocherà. Grazie anche per la rapidità. L'Onorevole Berrino. Ministro, grazie per la relazione che ha fatto e la devo anche ringraziare particolarmente per l'accenno che ha voluto fare sul giornalismo, sul giornalismo di inchiesta all'interno del contratto di servizio. Proprio su questo, visto che lei recentemente è stato al centro di un ripetuto servizio di report, di giornalismo e di inchiesta, lo stesso servizio ha trasmesso più volte e l'abbiamo visto, a mio parere, giustamente inquietarsi sul punto. Le volevo chiedere la sua opinione su quanto è successo, nonostante, ripeto, nella sua relazione questa mattina abbia giustamente sottolineato la necessità del giornalismo di inchiesta all'interno del servizio pubblico. Grazie Presidente, grazie al Ministro e ai riferimenti puntuali che ha fatto al contratto di servizio. Io, proprio dalle sue parole e dal contratto di servizio, vorrei partire con riguardo in particolare alle linee guida che impegnavano, avrebbero dovuto impegnare la RAI e quindi in questo caso il Ministero che lei rappresenta nel tracciare, nell'identificare dei parametri, leggo direttamente, assicurare una maggiore coagenza degli obblighi assunti nel contratto di servizio, in particolare attraverso l'introduzione di obiettivi misurabili, nonché potenziando le modalità, gli strumenti e gli organi di verifica per l'attuazione degli stessi. Nel contratto di servizio che lei citava però, l'articolo 20, leggiamo al punto 2, a tal fine la RAI nei propri piani industriali è tenuta a definire gli strumenti finalizzati a monitorare, eccetera. Quindi volevo capire come mai ha ceduto alla RAI, si cede alla RAI in questo contratto di servizio la possibilità di autovalutarsi, sarebbe stato forse più opportuno dare questi parametri indicandoli dichiaratamente nel contratto di servizio. Poi in merito al riferimento che lei ha fatto rispetto al passaggio da broadcaster a digital media company, le volevo chiedere in che modo considera strategico a questo punto la dismissione di quote, per come rappresentato come ipotesi dal Ministro Giorgetti nel suo intervento, di quote di RAI per accedere al mercato dei capitali e avere nuove forme di investimento. Diciamo che se sul RAI si ritiene utile magari investire, cederne quote forse non è proprio la strada migliore. Poi un'ultima cosa riguarda la valorizzazione del patrimonio delle teche RAI che non vengono menzionate nell'ambito della valorizzazione del contratto di servizio. Mi riferisco ad un caso concreto che riguarda il maxiprocesso di Palermo, dalle videocassette che contenevano gli audio dei soggetti che erano imputati nel maxiprocesso, la magistratura ha avuto la possibilità di verificare che nelle intercettazioni a cui si stava procedendo la voce che si sentiva era proprio quella dell'attitante brusca che è stato identificato e si è potuto aggiungere al suo arresto grazie anche agli audio contenuti nelle videocassette del maxiprocesso. Quindi volevo sapere se non sarebbe opportuno inserire qualcosa di specifico per la tutela di questo patrimonio della RAI. Grazie. Grazie. L'onorevole Graziano. Grazie Presidente, grazie Ministro per essere tornato qui. Le volevo chiedere, avendo ascoltato la sua relazione con il traffico che c'era per arrivare, le volevo chiedere come le intende sostanzialmente vista la situazione in cui c'è la RAI, nel senso che c'è un tema che riguarda come lei sa meglio di me, l'indebitamento, quindi circa 580 milioni di indebitamento. La vicenda del canone, quindi vorrei avere un suo parere, visto che Giorgetti nella sostanza ha abolito l'abolizione del canone momentaneamente per il 2023-2024, ma poi nel 2025 sostanzialmente dice vedremo se trasferirla sui telefonini piuttosto che metterla sulla fiscalità generale e di conseguenza diciamo come realizzare da questo punto di vista poi quello che è il piano industriale e di conseguenza quali sono gli investimenti, perché se dobbiamo, se come è la RAI deve passare da broadcaster a digital media company, ovviamente c'è bisogno anche di molti investimenti che siano anche sugli nuovi strumenti e sulle nuove piattaforme, cioè qual è la sua idea di prospettiva a sostegno da questo punto di vista della RAI che possa in qualche modo essere utile. E quindi da qui capire cosa pensa sull'eventuale vendita di RAI-Way, perché ovviamente lì è l'altro tema che a nostro avviso è abbastanza importante. Seconda domanda, come e se lei ritiene di dover dare un contributo fondamentale su quella che è la qualità e la quantità di programmi in modo da poterli misurare e avere un oggettivo parametro di valore complessivo che ci permette di realizzare le condizioni reali date. E a questo legherei il ragionamento che in qualche modo è stato già fatto da qualcuno, cioè come si pensa di poter dal Ministero sostenere in generale questo ragionamento fatto. Grazie. Grazie. L'Onorevole Boschi. Grazie Presidente, buongiorno Ministro e grazie per la sua relazione. Mi aggiungo sinteticamente alla richiesta del collega Graziano circa la possibilità di alcuni chiarimenti sulla sua posizione in relazione al canone e in generale al finanziamento dell'azienda e quindi del piano industriale. Sottopongo anche a lei alcune riflessioni per conoscere ovviamente la sua opinione già rivolte anche al Ministro Giorgetti in audizione. In modo particolare una richiesta di chiarimento per quanto riguarda l'accenno fatto anche dal Ministro Giorgetti in questa sede circa un, cito, ricorso al mercato di capitale di rischio su cui però il Ministro Giorgetti non ci ha detto di più e quindi vorremmo capire da lei se ci sono elementi per poterci chiarire meglio qual è la posizione del Governo su questo. Se ci sono riflessioni in corso nel Governo in quale direzione rispetto anche a modifiche della Governance RAI e quindi anche di una riforma di sistema della RAI. Con riguardo al contratto di servizio, Ministro, le chiederei, perché poi chiaramente sarà anche oggetto del confronto all'interno di questa Commissione, del parere che formuleremo però insomma in questa sede in audizione, se state immaginando magari di apportare delle modifiche che possano rendere più incisiva la parte già prevista nella bozza sottoposta della nostra attenzione, in tema di trasparenza, in modo particolare perché a mio avviso ci sono due profili che richiederebbero una maggiore attenzione, una inerente anche i compensi relativi alle partecipazioni alle trasmissioni RAI che sono inaccessibili anche per noi membri della Commissione Vigilanza, nonostante abbiamo io personalmente anche presentato delle richieste in tal senso puntuali e con riguardo soprattutto a quelle che sono le produzioni affidate all'esterno della RAI. L'altro tema riguarda la possibilità di avere magari degli strumenti più efficaci di monitoraggio anche rispetto all'adempimento e all'osservazione da parte della RAI, ovviamente degli obblighi posti al contratto di servizio, non soltanto con una verifica temporale a cui poi però non seguono conseguenze incisive, ma la possibilità che ci possano essere appunto mezzi più efficaci di verifica, eventualmente di intervento in corso d'opera e le ultime riflessioni, visto che è un punto su cui si è soffermato anche lei Ministro ampiamente nella sua relazione, è quello che riguarda la natalità e la famiglia, anche per quello che è stato il contenuto di altre audizioni in questa sede con altri soggetti. Per quanto mi riguarda personalmente ovviamente non mi preoccupa il fatto che nel contratto di servizio ci possa essere una parte ampia dedicata anche alla promozione della natalità o comunque rivolta alle famiglie. Il tema che a mio avviso però forse è carente in questo contratto di servizio è una riflessione un po' più ampia in generale su varie famiglie e quindi la possibilità di avere anche nel contratto di servizio un'attenzione a quella che è la società nel suo insieme, nella sua complessità nel nostro Paese e su alcuni temi che probabilmente, questo magari ce lo può confermare lei Ministro, vengono considerati in qualche modo già presenti nel contratto di servizio precedente e quindi di fatto assorbiti anche nel nuovo contratto di servizio ma che non trovano poi un'espressa indicazione in questo riguardo a un'attenzione maggiore contro appunto le varie forme di discriminazione. Era presente nell'altro contratto di servizio, forse viene considerato implicito però probabilmente potrebbe essere utile diciamo sottolinearlo in modo più puntuale anche nel nuovo. Grazie. Sulla parte generale sono argomenti che abbiamo già in qualche modo inquadrato, ringrazio comunque il Ministro Urso per averli ripercorsi. A Cenipristi sulla questione del canone mi pare una questione risolta, il canone resterà insomma, ogni tanto c'è qualche titolo di giornale, finanziamento pubblico, servizio pubblico, poi se si vuole fare in modo diverso ma la questione non mi ha mai scaldato perché tanto come si è visto insomma, si andrà avanti in qualche modo, semmai c'è da capire come adattarsi ai nuovi strumenti di accesso e non credo nemmeno che si potrà mettere un canone tra viventi su qualsiasi telefonino, si troveranno modi ma il canone ci sarà, la resi lo deve poi meritare. Riguardo a questo condivido il fatto che è impossibile avere alcuni dati, io faccio un caso specifico, Fazio, se fai, ora non c'è più, è andato da un'altra parte a guadagnare di più, ma le interrogazioni fatte su quale è il sistema che usa la RAI? Dai soldi a Fazio, poi dai soldi alla società che produce, poi se tu vuoi sapere Serra di Repubblica quanto prendeva, o lo scrive lui sulla Maca, sul suo giornale, rivolgo un appello perché poi qui ci ascoltano, vedo che poi arrivano i messaggi e le repli, quindi invito Serra a scrivere sulla Maca di Repubblica quanto prendeva perché la RAI ti dice che non lo sa, ora se io che sono una persona che svolge una funzione pubblica rispondessi sui miei monumenti che sono peraltro pubblici, come le di tutti noi, una cosa del genere verrei in seguito da Busia, dall'autorità anticorruzione e altri, la RAI invece ti può rispondere che danno i soldi e poi lui come paga i collaboratori non si sa, questa è una cosa che penso tutti dobbiamo esigere, si debba poter sapere. Per quanto riguarda la questione poi di RAI Way, visto che è stata evocata da molti, la RAI tentò quando era Presidente Zaccaria ha poi diventato parlamentare della sinistra, di svendere RAI Way, a me capitò per i ruoli che avevo in quell'epoca di impedire questa svendita, la RAI poi ha quotato RAI Way e quindi ne ha tratto un giovamento e il tema qual è? Che si era arrivati a un certo punto al tempo del governo Draghi all'ipotesi che la RAI potesse cedere la maggioranza del controllo e avevano raccontato al Presidente del Consiglio dell'epoca, parlo per esperienza diretta e personale, che erano dei ferri vecchi. Poi noi facciamo qui un'audizione nella scorsa registratura su RAI Way io invece la domanda all'amministratore, giustamente dice altro che ferri vecchi, perché l'impianto di trasmissione è fondamentale, nell'epoca Covid se non ci fosse stata la televisione a informare le famiglie puntualmente, non è che tutti stanno sul web o quelli più anziani hanno dimestichezza con un computer. Quindi molta attenzione, mi unisco alle perplessità di altri colleghi, sulla valutazione. È vero che uno può controllare una società anche se non ha il 51%, lo dimostrano l'Ener e l'Eni dove lo Stato fa la sua parte. Però attenzione a quelle che... perché c'era questa vulgata che hanno detto a Draghi, vendiamo la Fontana dei Trevi a un prezzo fantasmagorico e quindi non sono ferri vecchi, è la rete di trasmissione che può essere anche poi utilizzata per trasmettere altri tipi di segnali, fare joint venture, accordi di varia natura. Ecco però sulla strategicità di RAI Way richiamo la sua attenzione perché appunto c'era qualcuno che in epoca recente diceva che erano ferri vecchi da vendere a un bel prezzo ed era un affare del secolo e lo sventammo anche qui con delle audizioni in vigilanza. Quindi la vigilanza serve moltissimo perché l'editore sostanziale della RAI che ha anche salvato nell'ultima fase della scorsa registratura questo attacco a RAI Way. Difatti la vigilanza come il canone rimarrà. Grazie, l'Onorevole Lupi. Sì, anch'io pochissime domande, ringrazio il Ministro anche perché era venuto a illustrarci le linee guida e oggi le ripossiamo verificare se quanto appunto era stato illustrato la Commissione di Vigilanza poi si è tradotto nel contratto di servizio su cui noi esprimeremo il parere. Io ritorno su una domanda che per altri commissari hanno fatto e che credo sia fondamentale sia per il Ministero ma per la Commissione di Vigilanza. Compito appunto e si vede nel contratto di servizio è dare indirizzi ma altrettanto esercitare i controlli. Se c'è stato un punto di debolezza del passato contratto di servizio che poi questi controlli non sono misurabili, le faccio un esempio. Si parla sempre di contabilità separata ma andare a capire dove si può trovare questa contabilità separata e come le risorse del canone sono state utilizzate negli anni passati in funzione dell'attuazione del contratto di servizio credo che manco un grande revisore dei conti possa riuscirci. Allora sul tema della misurabilità come si può lavorare insieme quindi Commissione di Vigilanza e Governo perché quell'obiettivo possa essere raggiunto si può entrare secondo lei a introdurre avevamo tentato anche questo dei concetti anche quantitativi non solo generici e qualitativi. Se si deve parlare del made in Italy, si deve promuovere i giovani, si deve promuovere la cultura della famiglia è possibile ipotizzare anche un elemento quantitativo. Quante ore di trasmissione ha fatto quella cosa? 0, 1, 2, 27, 55 è chiaro che è un indirizzo però io credo che questo sia un tema anche perché se no è tutto generico così come ha fatto bene a rispondere sul giornalismo d'inchiesta voglio dire mi sembra che sia raddoppiato, triplicato e quello anzi devo dire che il nostro Ranucci si è trovato assolutamente valorizzato ancora di più quindi ci indica la strada per essere valorizzati ecco quindi ma al di là di questa battuta ho tolto il compito questa è la prima domanda, la seconda ci troviamo ne avevamo parlato anche con il Ministro Giorgetti con un paradosso il contratto di servizio va dal per 5 anni fino al 2028 scade la concessione prima, nessuna società è in grado rispetto a un'incertezza della titolarità di poter eventualmente fare investimenti, c'è intenzione di anticipare la proroga della scadenza nel senso di dare più certezza oppure no? Questo aspetta ovviamente al Governo, al Ministero e quindi ultima domanda è sul tema dei compensi, io credo che gli esempi fatti dicano che oggi c'è un'anomalia, un'anomalia che è determinata dal fatto che la RAI per competere deve stare sul mercato nel momento in cui gli hai messo dei paletti o dei massi allora trova vie diverse, vedi fazzi o vedi altri soggetti per poter competere o stare sul mercato, questo è derivato dal tetto che è stato messo ovviamente per cui i funzionari in te, cioè i dipendenti della RAI da giornalisti eccetera non, qui vorrei capire un suo pensiero, il caso Bianca Berlinguer è che prende il concorrente, va, gli dà tre volte tanto, il mercato è il mercato e se ne va, possiamo valorizzare i giovani però altrettanto è un tema forse di riflessione seria su questo tema e su altri che dovremmo aprire. Grazie, non avendo l'onorevole Boschi completato tutti i cinque minuti do la parola alla senatrice Gelmini. Grazie Presidente, solo due domande al volo, la prima riguarda il canone mettendo insieme le riflessioni che lei ha fatto e le valutazioni del collega del Ministro Giorgetti capiamo che c'è da parte del Governo forse in prospettiva una modifica del canone e quindi vorremmo capire i contenuti di questo cambiamento, l'altra questione l'ha sottolineata Lupi e era già immersa nel corso delle molte audizioni che stiamo facendo, il contratto è condivisibile nella sua genericità e nella suo richiamo a obiettivi alti, il punto è la valutazione d'impatto, io credo che sia urgente e importante che anche per dare un senso al lavoro che si fa all'interno di questa Commissione che ci sia la possibilità di valutare non solo dal punto di vista quantitativo ma insomma introdurre una misurabilità di quegli obiettivi, ecco ci domandavamo se come Governo e soprattutto lei Ministro ha delle proposte in merito, grazie. Grazie a tutti i colleghi, ripasso la parola al Ministro. Bene, su alcune questioni su cui diversi colleghi sono intervenuti, do una risposta diciamo iniziale e complessiva a quella che riguarda innanzitutto il canone Rai, di cui ha parlato in questa sede anche il Ministro Giorgetti e con cui vi è una riflessione in atto che si basa però su alcuni principi ben chiari, quello di garantire la sostenibilità economica del contratto in diservizio e quindi del piano industriale della Rai e quello di garantire al servizio pubblico delle entrate certe come accade anche negli altri paesi europei con cui dobbiamo confrontarci. Detto questo, con questi principi, intrate certe sostenibilità economica del contratto e quindi del piano industriale, è nata una riflessione con il Ministro Giorgetti su come esercitare e come modificare le modalità del canone che appunto su questo campo è in atto una riflessione. Per quanto riguarda Rai Way, che è un altro argomento che i colleghi hanno più colleghi evidenziato, noi pensiamo che si possa ragionare ovviamente sempre con MEF, insieme con MEF, sull'apertura a soggetti interessati all'ingresso in Rai Way, purché resti fermo, questo è il principio, fermo e chiaro, il controllo pubblico sulla rete come nelle telecomunicazioni. Per quanto riguarda altre annotazioni, ricomincio dal collega Candiani, in merito alla copertura e alla valorizzazione del territorio, ho detto anche nella mia relazione, noi siamo molto attenti a questo, la copertura in modo specifico per il digitale da resta è garantita sia per il digitale da resta che per satellite con la scheda TVSAT gratuita da parte di Rai per chi non la riceve. Comunque siamo impegnati come Di Castero a svolgere tutta l'azione affinché la copertura sia assicurata a tutti i cittadini ovunque essi risiediano. Per quanto riguarda Report, rispondo alla fine, essendo una questione direi in questo caso anche personale. La collega bevi l'acqua, in riferimento al monitoraggio che noi potremmo fare o che dobbiamo fare, il punto specifico è quello dell'articolo 22 che prevede una lunga serie di adempimenti tra i quali, sono diversi punti, tra i quali adempimenti la Rai è tenuta a trasmettere al Ministero e a fornire una completa informativa sulle dinamiche della gestione entro il mese di giugno di ogni anno, in cui è tenuta a trasmettere a noi, al Ministero delle Finanze, all'autorità e alla Commissione una relazione sui risultati economici e finanziari dell'esercizio precedente che utilizzando anche fondi non-anzientali recanti informazioni anche in merito e poi si elencono ripartizione del mercato pubblicitario, ricavi pubblicità della Rai per mezzo e per tipologia, indici di affondamento pubblicitari eccetera. Quelli sono gli adempimenti che poi ci consentono di realizzare un controllo più approfondito che sono prescritti nel contratto di servizio. Per quanto riguarda le Teca Rai, riferimento anche al Maxi Processo, altri eventi estremamente significativi e importanti che rimangono nella storia e non soltanto, nella documentazione del nostro Paese, io credo che siano da considerare un patrimonio, da salvaguardare e in particolare nell'articolo 6 si riferisce proprio alla specificità delle Teche e del Made in Italy come specificità ovviamente da preservare. Per quanto riguarda quello che diceva, alcuni ne ho già risposto sul canone e sulla centralità del servizio pubblico che per noi è fondamentale, domande che sono presenti negli interventi di più colleghi. Per quanto riguarda quello che la collega Boschi diceva, sulla Rai Way abbiamo risposto, e per quanto riguarda le discriminazioni, l'articolo 9 e 10 che riguardano le varie forme di discriminazioni viene evidenziato come la Rai deve sostenere l'integrazione delle minoranze, promuovere l'impegno per l'uguaglianza, l'inclusione e la diversità, valori e patrimoni comuni. E poi, per quanto riguarda sempre questa tematica così importante, la Rai deve valorizzare le professionalità interne con riguardo al contrasto, alla disparità di genere. Poi ovviamente se vi sono integrazioni che la Commissione intende proporre, noi siamo disposti ovviamente, ben disposti ad accoglierle. Per quanto riguarda quello sollevato dal collega Gaspari, poi dal collega Lupi, sul canone abbiamo già riferito. Sulla modalità di spesa e quindi sulla contabilità separata per il servizio pubblico, ciò è previsto, o meglio, nell'articolo 18 è previsto che la destinazione di queste risorse deve essere verificata da società scelta da Gcom nella lista della Consob. Quindi la verifica è demandata dalla società scelta da Gcom nella lista della Consob. Si chiedeva poi sia a Gaspari che a Lupi, che ad altri, anche credo il collega Boschi, in merito a informazioni specifiche sui contratti, piuttosto che sugli appalti e quant'altro, ove ci fossero delle interrogazioni parlamentari specifiche, io mi impegno a dare tutta l'informazione che possiamo ricavare nelle aule o nella commissione, ove queste interrogazioni vengono formulate. Da parte nostra, vale in questo contesto, ma vale anche negli altri contesti in cui esce il Ministero, la massima trasparenza, che è sicuramente il modo migliore per evitare qualunque forma di distorsione o di condizionamento. Il nonorevole Lupi parlava di come ha l'arte di riferimento alla scadenza della Convenzione nel 2027, mentre il contratto di servizio scade nel 2028, quindi questo sfasamento temporale, l'articolo 25 prevede appunto l'adeguamento temporale e l'allineamento ondevitare appunto questo disallegnamento. Per quanto guarda gli indicatori misurabili, questi sono indicati nell'articolo 20 e 21, siamo comunque anche in questo caso pienamente disponibili a recepire eventuali suggerimenti nelle vostre indicazioni per migliorare quando già previsto. Non credo, ove smancassero delle risposte che io non ho annotato pienamente, me le segnalate, lo farò eventualmente successivamente anche per iscritto. Merito invece alla vicenda di report, io come sapete dopo la prima trasmissione di report da l'inonda, credo vada a memoria, il 29 di maggio ho dato mandato ai miei legali che hanno presentato una denuncia presso la porcura di Roma e comunicato questo ovviamente a mezzo stampa in modo che lo sapesse anche il giornalista e la RAI. Peraltro successivamente a quella trasmissione in molti hanno evidenziato la distonia della trasmissione. Dico un caso per tutti, ricordate l'intervista a un assessore di Verona che diceva, su cui poi si è incentrata la trasmissione, che il sottoscritto non aveva informato gli azionisti del consorzio, il comune e la provincia che era in atto un progetto per il sostegno economico all'Ucraina che avrebbe previsto una piattaforma logistica nella città di Oronda al confine con l'Ungheria per aiutare nel veicolo delle merci in entrate e uscite in Ucraina, un progetto particolarmente significativo, poi presentato anche la conferenza di ricostruzione. L'accusa era che il ministro non ha informato nemmeno il comune nemmeno la provincia. Salvo, lo potete contattare tutti voi, che il progetto era stato presentato qualche mese prima con una conferenza stampa aperta alle imprese, parlo di almeno 300 imprese, alla presenza di televisioni nazionali e locali in cui accanto a me hanno presentato il progetto il sindaco e il presidente della provincia. Un giornalista, qualunque giornalista, sarebbe andato su internet a vedere le immagini televisive prima di costruire un servizio su una dichiarazione fatta alcuni mesi dopo che non teneva conto di tutte le notizie pubbliche. Pensate che al tavolo di lavoro, su indicazione del sindaco, era invitato un assessore, non l'assessore che ha parlato, ma l'assessore competente che ha partecipato a tutte le riunioni. Dopo la trasmissione il consiglio comunale si è riunito e all'anunamità ha approvato un ordine del giorno, inviato a report in cui diceva che la sua ricostruzione non è conforme alla realtà. La realtà che il sindaco ha presentato accanto al ministro e accanto al presidente della provincia, il progetto insieme e lei mesi dopo fa un servizio in cui dice addirittura che il comune non sapeva nulla. Questa è per dirvi un caso e tutta la trasmissione nasce su questo. Ovviamente c'è una replica, qualche due mesi dopo, e la replica riproduce la trasmissione senza dà conto di nulla, né delle denunce e delle querele fatte non solo da me, né dell'ordine del giorno all'unanimità del consiglio comunale di Verona che è governato dalla sinistra, né di tutti gli altri interventi fatti pubblicamente da chi dice non è vero, non è vero, non è che si tratta della riproposizione di un film o di una fiction, si tratta della riproposizione di una trasmissione d'inchiesta che ovviamente nel riproporla dovrebbe perlomeno dire questa è una replica, nel frattempo però è accaduto che c'è state queste querele comunicate alla stampa, c'è stato quest'altro, quest'altra ancora, ma alla seconda replica ho fatto ovviamente una seconda denuncia, ne è venuta una terza replica che non tenete conto né della prima denuncia, né della seconda, né di tutte le dichiarazioni nel frattempo avvenute e consegnate a report pubbliche. Poi l'altro giorno anche la società, dopo la terza replica, il settimo macro elettronico, la società quotata in borsa, ci fa sapere con un comunicato stampa di aver fatto addirittura una denuncia alla procura di Roma, prima ancora che andassi in onda alla trasmissione, sulla violazione delle proprie mail riservate nei confronti di report e sulle agenzie, io l'ho letta sulle agenzie. Una società quotata in borsa, la prima multinazionale europea nel campo della microelettronica, fa una denuncia ancora prima della trasmissione alla procura della Repubblica di Roma in cui dice che le nostre mail riservate sono state violate. E andiamo alla terza replica? D'altra parte voi sapete bene che il caso in questa, avete affrontato la presenza della commissione di vigilanza RAI, il caso report quando un collega dovette denunciare alcune minacce che erano a lui pervenute e quel collega ha investito il comitato parlamentare della sicurezza della Repubblica come può fare qualunque parlamentare. E in quel caso, come in tutto il precedente accade, il comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha dovuto ovviamente a udire il vostro collega. Questi sono atti pubblici. Non ho altro da aggiungere. E facciamo un secondo giro di... Soltanto perché lei ha fatto riferimento proprio a una violazione delle email riservate da una società quotata in borsa e noi leggiamo stamattina sui giornali che c'è stato un altro caso del genere denunciato per violazione delle email del attuale ministro Grosetto che a suo tempo non era ministro. Ma le volevo chiedere in particolare se lei si è dato una spiegazione rispetto a questo accanimento della trasmissione report nei suoi confronti. Sulla violazione delle email anch'io mi ho subita durante la mia presenza del COPAS e ho dovuto fare una denuncia alla Procura della Repubblica. Sulle spiegazioni basta leggere se vogliamo e tornare indietro. Oggi tramite l'Inter è facile farlo. Su chi allora presideva il comitato parlamentare per la sicurezza. Allora io ringrazio il ministro e sono certa che nelle sedi opportune troverà soddisfacimento qualunque chiaramente necessità di chiarimento definitivo su questa situazione. Ma ciò che invece mi tranquillizza molto come Presidente di questa Commissione è il suo aver sottolineato l'importanza comunque in generale del giornalismo d'inchiesta e la sua valorizzazione. E quindi a prescindere dal caso particolare condividiamo chiaramente questa importante sfera del contratto di servizio, quindi quella del giornalismo d'inchiesta. Mi permetta di ringraziarla per la disponibilità rispetto alla necessità di implementare gli indicatori misurabili. Quindi accogliamo con piacere questa vostra disponibilità perché nell'articolo 20 quello che ci preoccupava era il lasciare alla RAI la definizione di questi indicatori misurabili. Era solo poter come Commissione partecipare con un contributo specifico rispetto a una definizione di indicatori misurabili definiti da noi stessi. Quindi probabilmente nel parere potremmo farci portavoci di suggerimenti rispetto a qualche indicatore misurabile. Le ringrazio per il tempo, anche per la relazione dettagliata e per le puntuali risposte.